Francesco Totti e Ilari Blasi si trovavano allo stadio ad assistere ad una partita del figlio Cristian, ma sono distanti tra loro. Con l'ex capitano giallorosso c'è la nuova fiamma Noemi Bocchi insieme a due amici. Le telecamere di Sport Italia inquadrano i concubini mentre guardano una storia su Instagram appena pubblicata dalla Blasi. Ilari infatti si trova tra gli spalti insieme alla fidanzatina del figlio, non curante dell'attenzione dedicata le dai quattro. L'amica di Noemi infatti guarda con un profilo finto si immagina la storia di Ilari e richiama l'attenzione della coppia con un ghigno, come a giudicare la presenza legittima di una madre che assiste alla partita del figlio. Noemi lancerà uno sguardo inferocito tra gli spalti mentre dirà qualcosa di incomprensibile nascondendosi dalle telecamere. Anche Totti dirà la sua e così il gossip è servito. E voi da che parte state? Grazie a tutti!